Prima di cominciare davvero questa nostra chiacchierata con Michael, il libro l'avete visto, io penso che l'abbiate proprio, non soltanto l'abbiate visto, l'ultima cosa bella sulla faccia della terra, è questo. Prima di cominciare ho anche il compito di provare a dirvi qualcosa di questo libro, provare a raccontarvi molto velocemente quale storia racconta questo romanzo. Difficile, ma non difficile perché in questo caso è difficile, difficile sempre per me, quindi per me è un compito arduo, ma ci provo e ho deciso per farlo di cominciare come Michael ha cominciato. Siamo nel 2018 in una piccola cittadina del North Carolina, una di quelle cittadine in cui pare, così dicono, non capita mai niente, ma noi sappiamo che non è vero, non esiste un posto al mondo in cui non capiti nulla, tutti i posti del mondo sono posti in cui capita qualcosa, e in questo posto che si chiama Harmony, fatemi stressare un po' il nome, Harmony, qualcosa è successo, dobbiamo andare indietro di molti anni, 18 anni circa, quando nel 2000 un giovane ragazzo, Iggy, un diciottenne, una domenica, che non so perché io immagino soleggiata, ma non importa, durante una funzione nella prima chiesa battista, una funzione come tante, si prega, si canta, si suona, si alza in piedi, attraversa il corridoio centrale della chiesa, ha una tannica di benzina con sé, ha una scatola di fiammiferi, vorrebbe fare qualcosa che però non riesce a fare perché le mani gli tremano troppo, la tannica di benzina cade, la benzina si riversa sul pavimento, e il risultato di quella domenica è che 25 persone dentro quella chiesa battista muoiono. Io mi fermerei qui, perché poi tutto il resto è quello che scopriremo grazie a Michael, e quindi ancora ringraziandovi per essere qua con noi, lascio la parola a Fabio. Allora, buonasera, io comincio subito con una domanda per Michael, io comincerei banalmente dal titolo. Voi avete visto, se avete il libro in mano, che il titolo originale era The Ancient Towers, quindi le ore antiche. È interessante sapere quali fossero queste ore antiche, se erano antiche in quanto l'approccio alla storia ha un andamento, oserei dire, biblico, che tra l'altro crea un buffo gioco di parole con il cognome di Michael, ovviamente. E invece che cosa ne pensa del nuovo titolo che Adelphi ha proposto e ha scelto. Much prefer the Italian title. Much, much better. Yeah, I was concerned with time, I wanted to write a book about time, and I went through many, many titles as I was telling you guys earlier, I'm very bad with titles. One of the titles, an original title was called The Endless Idiot, which comes from a quote from Carson McCullers, which says time is an endless idiot running around the world. And, um, my publisher hated that, and so we went with, uh, The Ancient Hours. Um, I think it's, uh, that title's Ancient Hours speaks to, uh, an idea that's a concept in the book about, called the constant, uh, sort of time is this constant force, um, and, uh, a sort of despair and love that's sort of wrapped together. Um, that's always with us. And, um, and these characters, they identified in each other. The Italian title refers to Iggy watching, uh, a leaf fall, a blossom fall from a tree, um, as he's about to be executed. And he, um, posits that it might be the last beautiful thing on the face of the earth to him. Cominciamo col dire che il titolo italiano è molto, molto più bello, decisamente molto più bello, questo sì. È vero, c'è questo riferimento al tempo, come dicevi tu, e, um, io, come vi dicevo poco fa, eh, nell'altra stanza, effettivamente sono pessimo quando si tratta di dare un titolo ai miei libri. Quindi avevamo tutta una sfilza di potenziali papabili, diciamo così. Eh, uno di questi era addirittura Endless Idiot, che viene da una citazione di, eh, Carson McCullers, in cui si dice che Time is an endless idiot, il tempo è un idiota perenne, per capirci. Ma al mio editore non ne piaceva tanto come idea, quindi abbiamo detto, vabbè, lasciamo stare, andiamo con questo titolo di Ancient Hours. E perché c'è questo titolo? Beh, perché si riferisce effettivamente al tempo. Il tempo ha un ruolo importante nel libro, c'è la costante nel libro, no? Che è una sorta di riferimento al tempo. Ed è soprattutto una sorta di forza che arriva dal tempo, che anima il passare del tempo, una sorta di disperazione, anche una sorta di amore. Tanti sentimenti che si mesclano e che creano, appunto, questa sorta di disagio, quasi, che tutti i personaggi principali del libro provano, effettivamente. E che è sempre con loro e in fondo è sempre con noi questa sensazione un po' di sentimenti mescolati, di inquietudine. Però effettivamente il titolo italiano, secondo me, è molto più bello. E si riferisce soprattutto al fatto, questo invece riguarda un episodio che accade nel libro, quando Iggy, che è ormai sul punto di essere giustiziato, guarda fuori dalla sua finestra e vede, appunto, c'è un albero di corniolo fuori dalla sua finestra e, appunto, lui spera, dice, ma l'ultima cosa bella sulla faccia della terra potrebbe essere vedere una foglia o un fiore di corniolo cadere a terra. Questo è quello che secondo lui potrebbe essere l'ultima cosa bella sulla faccia della terra. Io vorrei tornare sulla... vorrei farti una domanda, ma più avanti, sulle voci di questo romanzo. Però, aspettiamo. Torniamo sul fuoco. Mentre pensavo a questo romanzo, mi è tornato in mente, in modo del tutto imprevisto e imprevedibile, un versetto del Vangelo di Luca. E in questo versetto dice delle cose che io non ricordo a memoria, ma dice qualcosa... dice qualcosa come io sono venuto a portare il fuoco. E c'è un passaggio in questo capitolo centrale, che è il cuore del romanzo, in cui Iggy stesso racconta ciò che ha fatto, in cui lui dice volevo ruggire tra le fiamme. E invece il fuoco mi ricordò soltanto quanto erano belle in realtà le cose. Allora, è una domanda che non è una domanda, scusami, ma perché il fuoco? I think fire is a very cleansing thing and destructive thing at the same time. I borrowed that line a little bit from a poem by Robertson Jeffers called Cremation and it goes it nearly cancels my fear of death my dearest said when I think of cremation to rot in the earth is a lonely end but to roar up in flame besides I am used to it I have flamed with love and fury so often in my life no wonder I am tired no wonder I am dying we had great joy of my body scatter the ashes and I always loved the idea that things could end in fire there's another poem by Robert Frost about fire and ice and the world will end and fortunately fire is too often a thing we deal with these days in many ways but I found that cleansing and destruction to be an interesting idea grazie facciavogli un applauso per la poesia a memoria adesso c'è non è ovvio non è ovvio quindi vai perché il fuoco perché il fuoco ha una doppia funzione nel senso che da una parte purifica e dall'altra distrugge al tempo stesso a questi due queste due forze estremamente significative e io devo dire che questa questo passaggio in particolare questa citazione arriva appunto da questa bellissima poesia che io ahimè non vi posso recitare in italiano vi chiedo perdono l'avete sentita recitare da lui di robertson jeffers e che si chiama cremation cremazione ed è una bellissima poesia però perché effettivamente in sostanza parla del fatto tra le frasi più significative c'è il fatto di dire io ho come dire ho vissuto di fiamme tutta la mia vita sono passato da una fiamma all'altra e la vita è stata una grande gioia adesso spargete le mie ceneri per l'appunto come a spargere questa gioia per l'appunto della vita vissuta in maniera così intensa a me è sempre piaciuta tantissimo l'idea appunto del del fuoco un'idea che poi ritroviamo anche del fuoco come come dire di come di qualcosa che finisce con il fuoco e poi è un'idea che troviamo anche ad esempio in fire and ice di robert frost ad esempio che un'altra appunto poesia molto importante insomma ahimè talvolta il fuoco ha degli effetti nefasti questo è vero però devo dire che invece appunto a me ha sempre affascinato molto questa dualità tra la purificazione e la distruzione che sono quasi elementi intrinseci del fuoco guardate non mi ha non mi ha stupito il fatto che Michael abbia citato a memoria una una poesia perché chi ha letto il romanzo sa che la sua scrittura è incredibilmente lirica e e quindi a questo punto viene spontaneo chiederti l'ultima cosa bella sulla faccia della terra il suo terzo romanzo il primo pubblicato in italia ma il suo terzo romanzo quindi tu hai scritto altri romanzi prima però chissà perché io ti immagino anche uno a cui piace giocare con la poesia o che comunque cerca una via nella lingua che sia una via di mezzo tra la prosa e la poesia volevo chiederti qualcosa rispetto al tuo percorso nel rapporto con la lingua absolutely I um uh poetry was my the first love uh in literature I think it's often how people find literature um and I I come from a maybe I won't call it a school exactly but um uh the the writers that I loved and and the 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 teachers that I had um were very focused on the sentence the sentence was the 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 unit um and we were sentence writers we weren't storytellers and um we tried to write one true sentence followed by another true sentence followed by another true sentence so I don't know if I always get there but that's that's the um that's the approach so it's much like um poetry and um in English um I we scan um in poetry I'm sure you do similar uh um for the accents and uh I often do that in the prose to try and uh find a rhythm um that makes sense and and to vary that rhythm so poetry is very important to me language is very important to me and sentences are very important to me almost before a story a voice is comes before the story it comes out of that so si assolutamente questo è molto vero quello che dici e questo perché effettivamente io nasco un po come poeta se vogliamo cioè il mio imprinting ci sta mi è stato insegnato la scuola da cui provengo anche se scuola forse non è il termine adatto però effettivamente gli scrittori che ho amato gli insegnanti che ho avuto mi hanno portato appunto a scoprire la letteratura per così dire ad approcciare la letteratura attraverso la poesia che ha compostato mio primo amore per così dire e e tutto comincia non è tanto questione di raccontare una storia quanto di scrivere come fossero dei sonetti praticamente scrivi e poi ne scrivi una altro e poi ne scrivi un altro alla fine c'è un libro però effettivamente non è la non è tanto la storia che è importante certo anche quella ha la sua rilevanza ma è soprattutto appunto la lingua che è importante in italiano forse anche un po diverso però effettivamente in inglese appunto c'è abbiamo una metrica particolare da rispettare ad esempio per cui in questo caso a seconda della lingua che utilizzi dai un ritmo particolare all'espressione quello che stai dicendo e quindi dai un'identità particolare alla voce che sta raccontando quella storia per cui effettivamente forse mi verrebbe da dire che la storia è quasi secondaria rispetto alla lingua e quindi appunto al ritmo e a questo elemento poetico proprio perché mi permette di dare una voce di creare una voce che è molto particolare no ma è così anche per noi io mi ritrovo piccola parentesi quello che mi quello che dicevi mi mi ha fatto sorridere io mi ritrovo a contare le sillabe e quindi la scrittura della della prosa è il conteggio delle sillabe è fantastico ancora una domanda se posso su ighi e su quello che ha fatto perché quello che ha fatto noi lo leggiamo raccontato da persone diverse trudi lo racconta i ragazzi al bar lo raccontano la gente lo racconta e poi lo racconta lui lo racconta lui mentre aspetta di essere giustiziato e però lui dice molte cose e ne dice una che mi ha lasciato senza parole io poi con l'età mi sono abituata ad aggrapparmi alle piccole cose ai dettagli e la cosa che lui dice è sono l'uomo che ha provato a salvarvi e dato che mi sono sentita chiamata mi sono sentita compresa nel gruppo dei dei salvabili ho bisogno che tu mi dica a che cosa pensava ighi mentre scriveva questa frase sono l'uomo che ha provato a salvarvi col fuoco in una chiesa una domenica soleggiata in un posto che si chiama harmony wow yeah i yeah i i i only hesitate because i i i don't want to speak for my characters you know um but yeah i think he in his conception he was trying to save people he was trying to get people to understand something even if it was misguided or or sort of half baked or or you know um complicated he wanted to show the world something uh because he felt that no one was listening to him um and he did it in a very convoluted terrible way but um he needed to say something and do something and and i think his conception that meant possibly saving people saving people from their own ignorance saving people from their naivete uh yeah in that sense um yeah i think that's as good as i can get for iggy i apologize dunque esito a rispondere perché non mi sento tanto a mio agio a mettere parole in bocca a iggy non mi sembra giusto effettivamente sì lui cerca cerca è il suo è un tentativo di salvarci direi di salvarvi ed è anche un tentativo di permettere agli altri di comprendere delle cose che secondo iggy la gente non capisce magari un tentativo che non va buon fine per una serie di motivi magari anche perché lui è confuso e strafatto insomma ne ha tutti tutti i colori per cui insomma non ha la mente proprio proprio lucida in quel momento però comunque sia lui questa cosa la sa lo fa in maniera deliberata quello che fa ed è proprio perché vuole 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 far capire qualcosa vuole vuole mostrare vuole 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 rendere evidente qualcosa che invece gli altri sembrano non capire non vedere assolutamente e lo fa in una maniera se vogliamo molto complicata molto scura quasi in una maniera assolutamente terribile se vogliamo ma ha questo impulso questo desiderio di far capire qualcosa di dimostrare qualcosa agli altri qualcosa che lui sente che lui che lui prova dentro di sé che appunto vuole comunicare anche agli altri all'esterno e da cosa cerca di salvare gli altri ma effettivamente forse dall'ignoranza dalla 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 dal fatto di essere un po creduloni di lasciare di credere delle cose che poi invece non sono vere ecco forse è questo quello che lui cerca di fare di salvare le persone proprio da questo detto ciò mi scuso con ighi perché magari lui non voleva farlo per questo allora io io farei una delle molte prime domande cioè la prima domanda di molte domande che forse faremo sulle voci narranti no perché sono evidentemente uno degli aspetti fondamentali di questo racconto elena ve l'ha già anticipato sto parlando a chi non ha ancora letto il libro evidentemente il racconto è affidato a quattro voci harmony che la città quindi c'è una voce collettiva c'è iddi che questo ragazzo che tenta di suicidarsi poi invece uccide 25 persone in una chiesa battista c'è farber che un bibliotecario e poi c'è giù che non so tanto se dirvi chi è adesso vediamo forse no magari non non mi non vi diciamo chi è giù però è un altro personaggio che c'è dentro dentro la storia e quindi una curiosità che a me viene quella legata un po alla alla scelta no di queste quattro voci e al filo rosso che le lega io ho provato a trovare un filo tra queste quattro voci me ne sono venute in mente due sostanzialmente uno è la ricerca della famiglia l'impressione che ho che tutti questi personaggi cerchino in modo diverso una una famiglia e poi ci ci sia una dimensione di fragilità quindi la fragilità e la famiglia sono un po i figli rossi che io ho trovato ma non so ovviamente se sono quelli a cui tu avevi pensato ci hai preso in pieno fabio absolutely the family aspect of it for sure I thought a lot about how these people I'm very fascinated about how people construct families outside of a nuclear blood relative and I think sometimes that's with friends sometimes in the case of farber it's with strangers even for a brief moment all of these characters are looking for that connection and not just a you know a real connection an honest connection and that's what they that's what they're trying to find Fabio proprio ci hai preso in pieno effettivamente perché devo dire che appunto l'elemento della famiglia sicuramente quello predominante che caratterizza appunto tutte queste queste voci narranti io sono sempre molto affascinato del modo in cui la famiglia poi si declina in tanti modi e talvolta ben al di fuori di quelli che sono alla fine i legami di sangue di una famiglia delle persone che poi appartengono allo stesso nucleo familiare la famiglia nucleare appunto nel suo senso più tradizionale se vogliamo una famiglia può essere costituita dagli amici una famiglia può essere costituita nel caso di falber ad esempio anche da un'estranea per dire e può anche non essere un rapporto a lungo termine può essere qualcosa di fugace che compare poi scompare diciamo che la cosa importante è che ci sia un rapporto un collegamento un legame con qualcuno e tutti abbiamo bisogno appunto di creare questo tipo di legami un legame non che sia di un tipo particolare ma deve esserci un legame con qualcuno a proposito di legami c'è un legame fra Iggy ci sono due legami uno lega Iggy a Clio e l'altro lega Iggy a Paul vorrei portarti per un momento sul legame fra Iggy e Clio e vorrei riportarti su una cosa che hai detto un po' velocemente prima sulla quale però secondo me è importante ritornare perché c'è una cosa che Clio insegna ad Iggy Clio è una ragazza che Iggy incontra della quale si innamora ma poi c'è anche Paul insomma per il momento però stiamo su di lei lei gli insegna che esiste una cosa che si chiama La Costante che Michael scrive con la C maiuscola La Costante e che mi ha ricordato non so perché la smarginatura di Elena Ferrante cioè intendo dire che ci sono degli scrittori che riescono a dare a uno stato d'animo una un nome un nome un peso specifico e la descrizione che Clio fa della Costante è meravigliosa io non la leggo però vorrei che tu provassi a raccontarci o riraccontarci che cos'è La Costante Well the constant she has a definition I think Iggy might have a different definition and I might have a different definition from theirs but it goes back to a conception of time and a kind of despair but also a despair that's wrapped in something hopeful too and I don't think they quite understand it but they feel it before they can understand it and so they're giving it this name almost as a way to connect each other connect to each other but it may be something that's indescribable and that's why they give it this name because it happens sort of emotionally before it happens in language and that's why they call it the constant Posso aggiungere una piccola una piccola domanda bis? Ovvio ok ma tu l'hai mai sentita la costante? maybe yeah maybe yeah yeah beh appunto la definizione perfetta l'abbiamo appunto da Clio nel libro direi che a seconda della persona a cui lo chiedete ricevete una descrizione diversa Clio venne da una Iggy potrebbe vederla in un altro modo io stesso potrei interpretarla costante in maniera diversa è appunto un concetto che si riferisce al tempo e anche alla disperazione se vogliamo ma il tutto avvolto in una sorta di speranza di qualche tipo ed è un un sentimento prima ancora che qualcosa che si comprende con la testa per capirsi ed è effettivamente proprio la costante che unisce Iggy e Clio perché prima ancora di capire di cosa si tratta a livello razionale quindi di descriverlo perché in realtà la costante non è molto descrivibile diciamo così è qualcosa che si prova a livello emotivo ed è forse per quello che siccome è così incentrata sul livello emotivo è difficile da spiegare perché prima si prova come emozione e solo dopo c'è la parte di linguaggio in cui bisogna tradurla in parole queste emozioni e quindi appunto sì direi questa è la costante e riguardo la domanda se io l'ho mai provata la costante forse chi lo sa forse sì senti io riporto invece l'argomento la discussione proprio nella vita di tutti i giorni nella quotidianità ho pensato che questo libro è ambientato nella profonda provincia americana Harmony può essere una di quelle cittadine che si trovano lungo le highway uno ci passa accanto vede un cartello e non c'è nessun motivo per girare e andare a visitare Harmony uno tira dritto e e quindi mi chiedevo se ci fosse anche e la risposta può essere no se ci fosse anche una dimensione politica nel tuo racconto nel senso che questa profonda provincia americana bigotta omofoba che usa la la religione quasi come una droga no poi hanno paura delle droghe sintetiche ma in realtà la religione è dopante per loro è una religione sintetica anche anche quella ecco mi chiedevo se ci fosse anche una ricerca di analisi critica riflessione sulla politica di oggi in America che sappiamo essere un'America estremamente polarizzata che sappiamo essere un'America che sta vivendo un momento di grande conflitto interno ecco è no no you know this is a big question in America right now actually if art should be political and I'm not sure that I'm well enough equipped to jump into that discussion but you know I don't think it has a specific politics except for that I'm urging people towards mercy and forgiveness and trying to understand people and maybe that is a political message but it's not one that falls on sort of any kind of spectrum of American politics I certainly have my politics and you know I have my problems with various politicians and various characters in the United States and religion and a lot of these things but it would I want to focus on the things that are human and I think I hope I don't know if that sounds pretentious but to me that's a political act because it's something that not a lot of people are talking about so yeah America leaves behind a lot of people there's not a social safety net of any kind there religion has become a very hypocritical idea to say the least there and it's not good it's not a good place right now it's gotten a lot worse and yet it's where I'm from and it's my home and the same with the small town that I grew up in as much as I wanted to get out still it's a piece of me and maybe that's part of what writing is about is is reconciling these things if it's possible maybe not but certainly grappling with it is is part of it allora devo dire che questa è una domanda bella pregna diciamo così mi verrebbe da dire di sì se vogliamo cioè c'è una una sommatura di qualche tipo politico però parlare di politica e di Stati Uniti oggi è una faccenda molto complicata per così dire non sono sicuro di né di voler affrontare questa questione né che quello fosse uno dei miei obiettivi nel parlare appunto di questo libro più che di politica mi verrebbe da dire che il mio era un po' un incoraggiamento alle persone a mostrarsi comprensive a mostrarsi caritatevoli nella loro vita quotidiana a mostrarsi disposti al perdono che poi questo sia politico è un altro discorso però non c'è un partito politico che caldeggi questo tipo di atteggiamento effettivamente io come americano ovviamente ho una mia posizione politica non come dire non necessariamente nel libro si riflette appunto la mia posizione la mia idea appunto della politica in america ed effettivamente in questo momento in america ci sono tanti problemi assolutamente sì dal punto di vista politico la religione appunto viene utilizzata in maniera non sempre come dire ineccepibile ci sono magari anzi ci sono dei come dire degli utilizzi della religione che io non condivido ma così come ci sono dei personaggi politici che io proprio non condivido per niente non posso neanche sopportare negli Stati Uniti diciamo che il mio il mio sforzo è quello di soffermarmi non tanto sulla politica ma sull'essere umano sulla dimensione umana della della società appunto americana sperando che il fatto di concentrarsi sull'essere umano possa in se stesso essere un atto politico questo sì gli Stati Uniti oggi sono un paese dove la gente come dire viene se non riesce a cavarsela se non riesce a tirarsi su le braghe da solo viene lasciato lì non è che gli aiuti a cercare di riprendersi non c'è una un qualche sistema sociale che permetta di aiutare chi magari arranca chi resta indietro appunto la religione è diventata più che altro un'idea che viene sfruttata per questo per quel motivo mi verrebbe da dire che in questo momento l'America non è un bel posto ahimè è diventata peggio con il passare del tempo detto ciò è casa mia detto ciò è il luogo da cui io provengo e quindi anche se io provengo da una cittadina piccolina come quella che descrivevi tu quindi da una cittadina che io non vedevo l'ora di abbandonare lasciarmi indietro per sempre basta non ci voglio neanche più pensare però comunque sia io me la porto sempre dentro quella piccola cittadina americana appunto e forse scriverne è un modo per cercare di come dire di fare un po' i conti con questa dimensione di me stesso della mia identità e se non proprio accettarla quantomeno come dire cercare di far sì che non mi non mi crei problemi per così dire a proposito di quello che dicevi no questa questo questo sguardo su sull'umanità che è un atto politico di per sé no è interessante perché il tuo romanzo è un è un intreccio di voci non ce n'è una in particolare no ce ne sono ce ne sono tante c'è Armoni c'è Iggy c'è Farber c'è Nuvola e spesso spunta fuori dalla pagina una la domanda riguardo alla verità che cosa è successo veramente chi era davvero Iggy che cosa è accaduto perché è accaduto quello che è accaduto e quello che è interessante è che l'assenza di un unico narratore rende la verità una specie di rifrazione di cose di possibilità allora mi chiedo se da un punto di vista tecnico tu eri interessato come scrittore a restituire questa visione della verità come una cosa che si rifrange si spezza si moltiplica e non si può acchiappare una volta per tutte e per tutti di come people view things differently over time, or not, how they remain the same sometimes too. And I was also interested in how there can be a sort of collateral effects, both positive and negative. I don't know if this is spoiling things, or I don't care about spoiling things, but there's another character in the book that is the child of an American soldier who fought in Vietnam, and a woman from Vietnam, and if the war had not happened, she wouldn't exist. And I was always very interested in that idea that somehow these horrible destructive things also bring life in a way. So time can work in very interesting ways, and truth can work in very interesting ways, and so I'm very fascinated by how all that works and try to capture a little bit of it. Allora, devo dire che sì, c'è sicuramente questa dimensione appunto legata alla verità. Non so, ad esempio, se vogliamo pensare anche a Mentre Morivo, appunto, di Faulkner, ad esempio, quello è un altro riferimento che sicuramente mi fa piacere condividere con voi perché va un po' su questa falsa riga. diciamo che mi ritorno a quello che dicevo prima sul tempo, perché secondo me la dimensione del tempo è molto legata anche a questo concetto di verità, perché la verità non solo cambia da persona a persona se chiedi a qualcuno cosa è successo, ma la verità cambia anche col passare del tempo, nel senso che magari col passare del tempo quello che ti sembrava vero, che qualcuno pensava fosse vero, ti diceva che era vero in passato, non lo è più, magari una persona cambia col tempo e quindi col passare del tempo una cosa che pensava fosse vera poi pensa che non lo sia più, o al contrario, una persona col passare del tempo resta coerente e non cambia idea, ad esempio anche questo è una possibilità. Poi c'è un altro elemento, non voglio fare spoiler, però mi va di dirlo lo stesso, quindi spero di non farmi brutte figure qui, ma pazienza, nel senso che mi è anche sempre molto interessato l'analisi dei cosiddetti effetti collaterali, che cosa voglio dire, che c'è un personaggio, ad esempio un bambino, che è figlio di un veterano del Vietnam e una vietnamita, e appunto molto chiaramente viene detto se non ci fosse stata la guerra del Vietnam questa persona non esisterebbe, e quindi appunto questo è un aspetto dell'esistenza che io ho trovato molto molto interessante, perché secondo me l'aspetto più interessante in tutto questo è proprio il fatto che dalle cose magari anche più orrende, come in questo caso, può uscire fuori qualcosa di positivo, in questo caso una vita addirittura da una cosa orrenda come la guerra, per l'appunto. Quindi devo dire che il tempo funziona in una certa maniera, la verità si comporta anch'essa in una certa maniera, e io trovo molto affascinante cercare appunto di tracciarne l'andamento rispettivo, ed è proprio per questo, ed è proprio questo uno dei motivi per cui ho scritto quello che ho scritto, nel tentativo appunto di cogliere l'andamento appunto del tempo e della verità. Allora io mi riaggancerei a questa cosa del tempo che mi sembra bellissima, non so se riesco a formulare una domanda con quello che ho in testa, ma adesso, perché mi ha fatto venire in mente una scena del libro che mi è molto piaciuta, verso la fine Joe, che è la quarta voce narrante, mentre viaggia con una ragazza, incontra una coppia di anziani, che tu descrivi anche come una coppia zen, a un certo punto, perché vanno a vedere, sono due anziani, che vanno a vedere le stelle cadenti. E la moglie di questa coppia e di anziani dice a Joe non provate a inseguire le stelle cadenti, piuttosto trovatevi un punto fisso nella volta celeste e aspettate che arrivino loro. Quindi, ripeto, non so da dove sia la domanda per te in tutto questo, per cui inizia a inventarti una risposta, ma mi faceva riflettere il fatto che tu parli del tempo, però poi c'è qualcosa in questo romanzo che ti porta anche a pensare che certe volte la cosa migliore è stare fermi e provare a osservare intensamente un punto, no? Magari. Chiudo qui. Sì. No, non so se ne vedo la mente, ma cosa da dire. Yeah. Yeah, I mean, that's true. I don't know if you've ever seen a meteor shower, but if you try and find it, you'll miss it. And if you just look, it'll come to you. And I, you know, I was telling someone this recently, there's a soldier who came back with PTSD and he was very anxious and scared of everything. And he decided to take up flying and someone, and he became a pilot, a commercial pilot. And someone asked him, why did you decide to learn how to fly? And he says, you know, because I constantly think about the war, but when I'm flying the plane, I have to fly the plane. And I think a lot of times, finding that thing that you can do, almost is like a daily exercise, dampens that anxiety and that fear from the rest of the world. For me, that's writing and playing music and making films. And it's art to me. But it's some way to sort of escape some of it. Because if I start thinking too much, it's bad news. But I think it's a bit of a two-sided, double-sided thing. Sometimes that anxiety and need to constantly worry about the future or the past also gives us a great imaginative ability to imagine things. So if I can direct it towards imagining things, that's much better. Da una non-domanda è uscita una risposta fichissima. Infatti. Allora, devo dire che è vero, anche perché se uno si incaponisce e vuole assolutamente vedere questi sciami meteorici, hai un bel tentare, ma di solito non ti va sempre buca. E invece, appunto, devi avere anche la fortuna, no? Di trovartici lì e guardi in su ed ecco, appunto, queste stelle cadenti. C'è un soldato, una storia che ho sentito, appunto, riguardo a un soldato, un militare, che è tornato dal campo, dal fronte e soffriva di stress post-traumatico, appunto. Era molto ansioso, non riusciva a dormire, non sapeva più cosa fare della sua vita. Allora, cosa ha deciso di fare? Un bel momento ha deciso di volare, di imparare a pilotare gli aerei e dopo, appunto, essersi congelato nell'esercito ha cominciato a, appunto, a dedicarsi non solo a pilotare, ma è diventato addirittura un pilota daerei, proprio di aerei di linea. E qualcuno gli ha chiesto, ma scusa, ma chi ti ha fatto fare? Che sei arrivato dalla guerra, sei tornato a tutto questo, c'hai l'ansia e fai il pilota daerei, ma ti sembra una cosa da fare? E invece lui ha detto sì, effettivamente sì, perché, allora, quando sono a casa, quando nella mia vita, nel mio quotidiano, c'è questa ansia che mi rode dentro, questo sì, ma quando sono là, nel cielo, che devo pilotare un aereo, è quello che devo fare, devo concentrarmi sul pilotare l'aereo, non posso fare nient'altro. E quindi, secondo me, la cosa interessante è che ognuno di noi, in un certo senso, pur soffrendo, appunto, di queste ansie, magari molto, anche molto, intense, che ci rendono la vita molto difficile, ognuno di noi può comunque trovare un modo per ridurle queste ansie, magari concentrandosi su qualcos'altro. Per questo pilota, per questo ex soldato, è pilotare un aereo. Per me, ad esempio, anziché farmi prendere dall'ansia esistenziale, oddio, adesso chissà cosa succederà, io mi dedico alla scrittura, oppure mi dedico, ascolto la musica, oppure mi piace molto l'arte, oppure faccio dei film, scrivo delle sceneggiature per i film, insomma, è un po' un modo per sfuggire a questo tarlo che sennò ti rode in testa e non ti permette più di fare assolutamente niente, perché quando comincia, sennò ti parte appunto questa ansia nella testa, poi non vai più da nessuna parte. Però devo dire che effettivamente forse c'è anche un altro lato della medaglia, nel senso che nel momento in cui hai questa ansia così forte, magari hai bisogno, cioè ti cominci a essere super preoccupato di questo, di quell'altro, per magari in quel momento, il momento in cui io appunto come scrittore comincio a pensare al passato, oppure comincio a pensare al futuro. E questo fa sì che in un certo senso la mia ansia diventi fonte di una creazione di qualche tipo. Io ho ancora una piccola domanda. Allora, sì, ultime piccole domande. Io farei un avviso agli naviganti dicendo che ci stiamo mollemente avviando verso la fine. Quindi, se cominciate a pensare alle domande che eventualmente vorreste fare, noi fra un attimo vi diamo la parola. Ok? Tanto io ne ho proprio una piccola. ho una domanda onomastica. Tu sei del North Carolina. C'è una bambina, non diremo di chi è, perché non si può dire di chi sia, ma c'è una bambina che si perde in una biblioteca. C'è una mamma che è spaventatissima, grida Carolina, Carolina, dove sei? Non è una domanda, però mi commuoveva un po' pensando che tu sei del North Carolina. Ti chiedi anche tu dove sia finita, dove sia finita, dove sia finito il posto da cui vieni? Si è perso da qualche parte? Again, spot on. Very good. It's interesting. That was the first scene that I wrote of the book that was the original seed of the idea was just simply something a child lost in a library. And I wanted to know, and a mother screaming for her and not knowing where she was. And I wanted to know who these people were and why this mattered. And it started to the story sort of kind of back, you know, backtracked into the story. Yeah, I've never thought of it that way. My niece is named Caroline. Yeah, and I like that. It's an echo to the place. Elena, ci hai preso anche tu perché effettivamente c'è questo questo sì, questo elemento, questo collegamento, perché no, assolutamente sì. Devo dire che questa scena è particolarmente importante perché la prima scena che io ho scritto tutto è cominciato da lì. Da questa scena in cui sapevo che era un po' il primo semino da cui poi sarebbe germogliato tutto il resto del libro. Una bambina che si perde in una biblioteca e la mamma che urla la chiama per l'appunto. E da lì ho lavorato un po' come dire a ritroso per ricostruire tutto il resto del libro. Quindi mi sono chiesto ma chi sono queste persone? Perché si trovano in questa situazione? Perché è importante che succeda questa cosa qui? E quindi appunto è così che sono arrivato poi alla storia vera e propria. Devo dire che non ci ho mai pensato però a questo collegamento mia nipote si chiama Caroline appunto quindi magari c'è una somiglianza anche lì però sì insomma è interessante questa tua osservazione non ci avevo mai pensato. grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri